Buongiorno, sono lo chef Albini Fabrizio. Oggi vi preparerò uno spaghetto al torchio con verdure e fior di sale. Gli ingredienti per quattro persone sono 240 g di spaghetto al torchio, 50 g di fagiolini, 50 g di pomodori secchi, 2 pomodori maturi, dell'olio extravergine d'oliva, dell'aglio, del peperoncino, un limone naturale possibilmente ad amalfi, del basilico e della focaccia e naturalmente del fior di sale e gemma di mare. Passiamo alla preparazione. In una pentola larga e bassa mettiamo dell'olio extravergine d'oliva, un po' di peperoncino, mezzo spicchio d'aglio, l'ho privato dell'anima per far sì che rimanga più leggero, i pomodori secchi, dei fagiolini che abbiamo precedentemente sbollentati in acqua abbondante e salata. Prendiamo i pomodori in San Marzano, li abbiamo sbollentati e privati dalla pelle. Ora li tagliamo a cubettoni e li mettiamo nel tegame a cottura lenta per pochissimi minuti. Prossimo passaggio, prendiamo della focaccia genovese, classica, all'olio d'oliva, la tagliamo a dadini, in questo modo, da creare quasi delle briciole di pane e la passiamo in padella senza nessun condimento per renderla semplicemente croccante. Dopo pochi minuti la nostra focaccia sarà tostata e croccante. A questo punto aggiungiamo il fior di sale. Il fior di sale è il primo fioramento marino dei nostri mari mediterranei, si presenta in cristalli, in piccoli cristalli piacevolmente croccanti e andranno a completare la croccantezza della focaccia. Nel frattempo abbiamo cotto gli spaghetti in abbondante acqua salata, li buttiamo nelle nostre verdure e le mescoliamo fino a mantecare bene il succo e le verdure. È un piatto molto buono, tiepido, ma anche servito freddo. Grattugiamo del limone, della buccia di limone nello spaghetto. Con l'aiuto di un forchettone, di una pinza e di un mestolo facciamo un nido di spaghetti e di verdura e la posizioniamo nel piatto. Andiamo ad aggiungere il condimento. Abbondante verdura. Una volta ultimato il nostro piatto lo copriamo con le briciole di focaccia e il fior di sale e gemma di mare. Lo spaghetto la chitarra con verdure e fior di sale e gemma di mare è servito.